Il nuovo libro del generale Vannacci Il libro Il coraggio vince Vita e valori di un generale incursore di Roberto Vannacci è un'autobiografia che racconta la vita di un uomo che ha scelto di essere un incursore in ogni momento della sua esistenza Il generale Vannacci, già noto per il suo best-seller Il mondo al contrario si presenta come protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali dimostrando una straordinaria capacità di realizzare l'apparentemente impossibile Il messaggio fondamentale del libro è che il coraggio è ciò che trionfa sulle avversità Il libro Il coraggio vince di Roberto Vannacci è un'opera che si presenta come un viaggio personale attraverso la vita dell'autore un generale incursore che ha sempre scelto di essere in prima linea Il libro è strutturato come una serie di memorie raccontate durante un talk show immaginario dove Vannacci affronta ogni domanda come fosse una battaglia con gli altri ospiti come nemici Vannacci condivide aneddoti significativi della sua vita dalle sue esperienze di infanzia fino alle campagne militari dimostrando una straordinaria capacità di realizzare l'apparentemente impossibile Il libro non è una vera e propria autobiografia ma offre una prospettiva unica su argomenti vari dalle critiche ricevute ai suoi pensieri alle sfide personali affrontate Il messaggio fondamentale del libro è che il coraggio è ciò che trionfa sulle avversità un mantra positivo e ispiratore che riflette la filosofia di vita di Vannacci